Non è presente, purtroppo non è potuto essere presente ed è Umberto Orsini Umberto Orsini Unicevi domani anche un altro premio a Palermo, il premio Pirandello che aveva già concordato da tempo e dunque non poteva essere in entrambi i posti Andrea Montanari, quando sei arrivato a Radio 3, con la nuova direzione di Radio 3, facciamo una serata Todo cambia Dove fu presente proprio la presentazione del teatro Umberto Orsini